Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. È appena terminata la partita, l'amichevole tra Bayern e Inter. Devo dire che oggi ho visto un'ottima Inter, veramente un'Inter buonissima proprio. Questo deve anche essere un segnale positivo per noi tifosi, perché significa che i giocatori stanno lavorando sodo, si stanno impegnando e voglio dire i risultati alla fine si vedono, perché oggi ce l'hanno veramente dimostrato. Comunque direi di analizzare un po' quella che è stata la partita. Partiamo dal primo tempo. Vabbè, il modulo è comunque sempre quello. 4-2-3-1, siamo partiti con Andanovic in porta, centrali di difesa Miranda, Skriniar, esterni D'Ambrosio, Nagatomo. A centrocampo siamo partiti con Kondong Bia e Borja Valero, prima punta Eder, dietro João Mario, esterni di attacco Candreva e Perisic. Allora, diciamo che sin dai primi minuti del primo tempo abbiamo visto comunque un Bayern molto, molto aggressivo, un Bayern offensivo. Nonostante questo, però, all'ottavo minuto arriva il gol di Eder. Bellissimo, bellissimo, veramente sottolineo, bellissimo cross di Candreva per Eder che colpisce di testa e va a segno. Devo dire che nei minuti successivi al gol pensavo di vedere un Inter un po' più spenta, perché solitamente l'Inter fa così. Segna e poi nel campo non si vede più. E invece no, ho visto un Inter combattivo, ho visto un Inter che non ha concesso praticamente niente al Bayern, perché comunque dopo il gol di Eder il Bayern ha cercato un po' di costruire e di attaccare, però l'Inter ha sempre messo i paletti tra le ruote e questa è veramente una grande cosa. All'Inter veramente nel primo tempo non ha concesso nulla. Buonissimo Eder, tra l'altro al trentesimo arriva la doppietta di Eder, questa volta diciamo che il gol è molto, se non quasi uguale, simile al primo. Però questa volta comunque l'assist non gli arriva da destra, quindi assist di Perisic, colpo di testa di Eder e va a segno anche qui. Vittoria e vantaggio tra l'altro meritatissimo, vittoria meritatissima da parte dell'Inter, primo tempo davvero ottimo. Per quanto riguarda Perisic ci ritengo a spendere qualche parolina. In questi giorni sento sempre più parlare che età, di Maria, di Maria, che età. Allora raga, si sta sempre a parlare di questi esterni, tralasciando il fatto che noi un esterno validissimo in squadra già ce l'abbiamo. Io per quanto mi riguarda Perisic non lo venderei per nulla al mondo, cioè non lo venderei assolutamente. Ovviamente, come vi ho già detto e ripetuto fino al vomito, quella che conta alla fine è la volontà del giocatore. Perché se non hai stimoli, come fai a dare il 100% ad una squadra? Per cui, in un certo senso, io spero che Perisic si autoconvinca a rimanere e a far parte di questo nuovo progetto. Lo spero veramente, perché stiamo a parlare di esterni. Quindi, ma verrà Di Maria, ma verrà Keita, raga, all'esterno noi ce l'abbiamo ed è anche forte. Ma l'avete vista la partita che ha fatto oggi Perisic? Come corre, quanto corre Perisic? Assurdo. Io assolutamente te lei Perisic tutta la vita, per cui non capisco questo continuo di Maria Riva, che te arriva, di Maria così, di Maria Collà, quando all'esterno in squadra ce l'abbiamo ed è anche parecchio, parecchio forte. Quindi, grande anche partita da parte di Perisic. Mi è piaciuto anche a centrocampo Borja Valero con Don Bia. Mi sono piaciuti entrambi a centrocampo, devo dire la verità. Borja Valero, giocatore veramente di grande esperienza, qualità e secondo me, lo ripeto, farà benissimo all'Inter. Per cui, primo tempo, assolutamente un Inter ottima. Non abbiamo concesso niente, abbiamo visto comunque un gioco di squadra, perché io personalmente non ho visto giocatori che giocavano individualmente, ma comunque si mettevano a servizio della squadra. Ho visto veramente un bel gioco, una bella Inter, una bella squadra e questo mi fa veramente piacere. Si tratta di un amichevole, però comunque i segnali questa squadra ce li sta dando, per cui bisogna essere fiduciosi. Nel secondo tempo, invece, troviamo un Bayern che parte aggressivo. Poi, infatti, proprio all'inizio ci sono due occasioni gol per il Bayern, prima con Coman e poi con Lewandowski. Poi, ovviamente, nel secondo tempo, diciamo che Spalletti ha fatto qualche cambio, infatti ha fatto uscire Der, l'autore della doppietta, e ha fatto entrare Gabigol. Il fatto che comunque Spalletti faccia giocare Gabigol, secondo me, è un punto positivo, perché questo qui, cioè questo ragazzo ha bisogno di giocare, perché altrimenti, cioè, come fa a crescere, come fa a migliorare. Per cui, già che lo inserisce nell'amichevole, già che magari riesce a trovare un pochetto di spazio, è una cosa positiva, è una cosa senz'altro positiva. Poi, successivamente, è arrivata anche un'occasione gol con Perisic, infatti Perisic stava per firmare il 3-0, però poi comunque la palla l'ha calciata un po' male, ed è uscita fuori. Comunque, abbiamo avuto anche l'occasione con Perisic, che, ripeto, in questa partita mi è veramente tanto, tanto piaciuto. L'unica cosa che mi va di dire riguardo al secondo tempo, in relazione al primo, è che comunque nel secondo tempo l'Inter ha concesso qualcosina in più rispetto che al primo tempo. Infatti, sì, il Bayern ha mostrato più aggressività, ha tentato di costruire qualcosina in più, però comunque l'Inter è sempre andata ad interrompere le azioni del Bayern. Ha, diciamo, concesso qualcosina in più l'Inter agli avversari, però comunque ha preservato il risultato, il 2-0, per cui va bene così. Si è visto, a me è piaciuto molto più il primo tempo rispetto al secondo, però anche nel secondo comunque abbiamo visto un'Inter combattiva, un'Inter aggressiva, che ha concesso sì, ma non chissà quanto, comunque poco. Poi Spalletti ha fatto altri cambi, per esempio, Brozovic, Biabiani e Gagliardini al posto di Candreva, Joao, Mario e Borja Valero. E poi, successivamente, al posto di D'Ambrosio, Miranda e Perisic ha fatto entrare Ansalli, Murillo e Pinamonti. Anche qui, mi piace il fatto che comunque fa giocare i giovani, perché Pinamonti, secondo me, lo ripeto anche oggi, è un grandissimo talento. Ovviamente è un talento che deve maturare, perché è giovanissimo, è veramente giovanissimo, per cui sono contenta che comunque li faccia giocare tutto quanto. Allora, devo dire che oggi l'Inter mi è veramente tanto piaciuta. Il primo tempo, secondo me, è migliore rispetto al secondo, ma nel complesso l'Inter ha fatto veramente una gran bella partita. Questo è un segnale positivo, come vi ho detto poc'anzi, anche per noi tifosi, che abbiamo visto comunque una squadra che c'era in campo. Una squadra aggressiva, che ha concesso veramente pochissimo agli avversari. Comunque siamo andati a giocare con il Bayern, quindi non l'ultima squadretta sulla faccia della terra. E niente, devo dire che sono molto soddisfatta, mi è davvero tanto piaciuta l'Inter. Fatemi sapere quello che ne pensate voi, se anche voi avete visto questa partita. Io purtroppo anche oggi ho dovuto guardare la partita in streaming su Facebook. Si è vista come si è vista, però è meglio di niente, comunque bisogna accontentarsi. E niente, fatemi sapere quello che ne pensate, chi vi è piaciuto di più. Se siete fiduciosi per la prossima stagione, tra l'altro ieri è anche uscito il calendario della Serie A per la nuova stagione. E analizzando un po' il calendario ho visto che comunque le prime due partite per l'Inter sono abbastanza impegnative. Perché abbiamo alla prima di campionato la Fiorentina, giochiamo in casa però contro la Fiorentina, vabbè, ancora ancora. Seconda però contro la Roma, in trasferta, quindi a Roma, diciamo che sarà un bel partitone impegnativo, ma veramente, veramente impegnativo. Per quanto riguarda la Juve, pensavo di trovare la Juve a metà strada, invece no. Penso, allora se non erro, contro la Juve andremo a giocare la quart'ultima partita, per cui ce la troveremo un po' alla fine. Però diciamo che, secondo me, alla fine, o prima o dopo andremo a giocare con tutte le squadre, per cui o prima o dopo le affronteremo, le dobbiamo affrontare tutte. E niente, diciamo, seconda partita parecchio impegnativa per l'Inter, però bisogna essere fiduciosi, bisogna dare fiducia a Spalletti, che secondo me sta facendo un lavoro veramente positivo. La squadra si sta impegnando, i giocatori si stanno impegnando e si vede, perché sì, si parla di amichevole, però comunque l'impegno si vede, che sia amichevole, che sia altro. Comunque l'impegno dei giocatori si vede, si nota, per cui segnale davvero positivo. Io sono fiduciosa, spero che l'Inter possa arrivare all'obiettivo, che si era prefissata, ovvero arrivare comunque nelle prime quattro posizioni. E niente, bisogna essere fiduciosi, bella partita, veramente bella partita da parte dell'Inter, fatemi sapere quello che ne pensate voi, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento al prossimo video.